e persi in caso con un crotone che non vinceva a otto anni ci segnala una curiosità per aggiungere ulteriore carne sul fuoco a quello che diceva De Maio Brescia-Spezia 4 a 4, siamo all'86esimo, tripletta di Donna Rumba giusto perché la differenza la fa quello là, lo dobbiamo dire a Emiliano, Emiliano è amico i bambini quella era la rovina del cane Bollini era la rovina del cane non lo facevi qua Donna Rumba perché evidentemente in settimana, in modulo perché devo trovare la soluzione giù Donna Rumba sono due anni che sei in continuazione cioè no, sono a Salerno perché io non lo facevi qua a Terme 80 gol a Brescia ha fatto già più di gol si è un'altra rovina del cane si è un'altra rovina del cane calma di vediamo anche se oltre al commento di Nello Hazel ci sono anche altri commenti Antonio si trovano anche altri commenti oltre a quello che vuole a me ha come tracca me che poi hanno fatto la partita dopo due ciò si è scartata tutto quando l'hai vinto 2 1 è andato in finale dalla bocchino fanno otto coppa non so che coppa è FK, LK non lo so Donnarumma che ha segnato già caterve di bolle poi vedi lo score dei giocatori attaccati alla serratana il pianto è veramente Donnarumma il rimpianto è veramente molto più grande perché in pratica a parte Bollini non capisce niente quello non è un problema